Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, un telegiornale quasi interamente dedicato e non può essere altrimenti ai risultati delle amministrative 2016, amministrative che abbiamo seguito molto da vicino con la lunga maratona elettorale partita intorno alla mezzanotte e conclusasi questa mattina poco prima delle ore 9 per darvi tutti i risultati mentre appunto proseguivano le operazioni di scrutinio, dati che vanno consolidandosi alcuni proprio negli ultimi minuti, altri dati invece erano già stati acquisiti. Partiamo con il primo servizio e con i primi dati concentrandoci sull'unico sindaco emerso in uno dei comuni dove c'era la possibilità del doppio turno. Ebbene a Francavilla al mare il doppio turno non ci sarà perché c'è stata un'affermazione netta, nettissima del sindaco uscente Antonio Luciani del centro-sinistra che vedete con il 67,7% ha riguadagnato il mandato appunto da primo cittadino. A seguire gli altri esponenti in realtà possiamo tornare alla schermata precedente ovvero quella che prevede Mantini che è esponente del centro-destra che si è fermato al 13,6% mentre al terzo posto è arrivato Sarchese del Movimento 5 Stelle per lui 1864 preferenze a chiudere di Renzo con 821 preferenze. Andiamo a seguire il primo servizio. Antonio Luciani si conferma sindaco del comune di Francavilla al mare. Per il primo cittadino uscente si è trattato di un vero e proprio trionfo andando al di sopra del 65% delle preferenze. Appoggiato dal Partito Democratico e da altre quattro liste civiche, Luciani ha lasciato le briciole ai tre sfidanti. Il candidato del centro-destra Pantaleone Alessandro Mantini supera appena il 15% e precede di quasi due punti Livio Sarchese del Movimento 5 Stelle. Ancor più distaccato, appena al di sotto del 6%, Stefano Di Renzo, sostenuto da Abruzzo Civico e altre due liste. Luciani può così proseguire il suo percorso amministrativo iniziato cinque anni fa. Questo il commento del confermato sindaco e dell'assessore regionale Silvio Paolucci. Noi accogliamo tutti a braccia aperte perché non vogliamo, non siamo di quelli che vogliono fare i presuntuosi, ma anzi c'è bisogno dell'aiuto di tutti, siamo qui, siamo disponibili al dialogo, lo siamo sempre stati. Ultimissima, Luciani a chi dedica questa vittoria? Beh, alla mia famiglia principalmente che mi sopporta da cinque anni e mi dovrà sopportare per altri cinque, i miei colleghi di lavoro che dovranno fare a meno della mia presenza quotidiana e soprattutto uno splendido gruppo che si è creato in questi cinque anni, che si è cresciuto con queste ultime elezioni, quindi veramente insieme siamo Francavilla che è il nostro slogan. È un risultato che viaggia intorno al 70% e io credo che abbia premato un ottimo lavoro svolto dal sindaco Luciani e dalla sua squadra in questi cinque anni. A questo punto la domanda è d'obbligo, ne parlavamo anche con altri ospiti che abbiamo ascoltato prima, è stato fondamentale ricucire quella frattura che si era creata qualche tempo fa qui a Francavilla. È stato molto importante quel passaggio ma certamente è stato determinante il lavoro svolto da Luciani in questi cinque anni, onore al merito no? Ed ora ci occupiamo del comune di Roseto degli Abruzzi, con la schermata sarà dunque ballottaggio tra il candidato sindaco del centro-sinistra Sabatino Di Girolamo che entra con un vantaggio minimo nei confronti del sindaco uscente, candidato del centro-destra Egno Pavone. Vedete le percentuali, 36% per Di Girolamo, 34,9% per Pavone. Siamo nei termini dei 150 voti di differenza in valore assoluto. In terza posizione dunque esclusa dal ballottaggio Rosaria Ciancaione, 29,1% per lei. Vediamo a tal proposito il servizio con le riflessioni proprio dei tre candidati. A Roseto degli Abruzzi il candidato sindaco più votato è Sabatino Di Girolamo che ha ottenuto un consenso del 35,95%, quindi arriverà al ballottaggio con un leggero vantaggio sul sindaco uscente Enio Pavone. Sconfitta invece Rosaria Ciancaione che ha ottenuto il 29,13% dei consensi. Il candidato sindaco del centro-sinistra Sabatino Di Girolamo non è sorpreso per il risultato ottenuto e ringrazia i rosetani. Non nascondo che non sono rimasto completamente sorpreso dal risultato. Ringrazio naturalmente tutti coloro che mi hanno votato e questo ancora di più mi fa sentire onorato e onerato perché sarà una grande responsabilità quella di fare il sindaco con una fiducia così grande sulle spalle. Spero che fra 15 giorni mi confermino questa fiducia e darò tutto me stesso a questa città proprio perché mi ha dimostrato affetto, fiducia, stima. Si aspettava questo testa a testa? Diciamo che sostanzialmente era prevedibile. Ovviamente ognuno di noi pensava e diceva che si potesse vincere, tutti e tre lo dicevano, che si potesse vincere al primo turno, però diciamo che visto il risultato importante che ha avuto anche la Sciancaione perché ha preso più di 4.000 voti e quindi un risultato anche che va oltre quello che si pensava potesse avere e anche un'affluenza anche maggiore rispetto alle previsioni. Personalmente come commenta questo dato dopo 5 anni di amministrazione? Personalmente ripeto è un dato incoraggiante perché comunque dopo 5 anni difficili e con due super corazzate perché qui si sono schierati, qui a Roseto, i due deputati della provincia di Teramo a tre deputati al Parlamento italiano. Sostanzialmente è quello che nelle previsioni generali poteva essere. Rosaria Ciancaione non andrà al ballottaggio ma vista la candidatura messa in piedi nel giro di soli due mesi è un ottimo risultato questo? Sì, è un ottimo risultato. Ovviamente speravamo di arrivare al ballottaggio perché pensavamo che poteva essere un risultato alla nostra portata in realtà. Ci siamo. Abbiamo sfiorato perché alla fine a occhi e cross sono mancati 700-800 voti. Sì, è un risultato sicuramente soddisfacente ma io avrei sperato di andare al ballottaggio. Ci sarà un apparentamento? Ma guardi, adesso noi abbiamo sicuramente impostato un discorso di partecipazione, di coinvolgimento di tutti, quindi adesso intanto più che pensare a quello che succede adesso con il ballottaggio pensiamo a rimettere a posto le cose, a vedere un attimo cosa vogliamo fare per il futuro e a costruire soprattutto una classe politica nuova. Gli altri responsi in provincia di Teramo, a Basciano si impone Alessandro Frattaroli, nuovo sindaco, mentre a Bellante la spunta Giovanni Melchiorre. A Castellalto conferma per Vincenzo Di Marco, come anche a Colonnella conferma per Leandro Pollastrelli. A Cortino la spunta di un solo voto Gabriele Minosse, mentre al secondo tentativo Michele Petraccia diventa sindaco di Pietra Camela. Ascoltiamo ora le impressioni di tre di questi sindaci, ovvero Giovanni Melchiorre a Bellante, Vincenzo Di Marco Castellalto e Alessandro Frattaroli Basciano. Una vittoria nel segno della continuità, io penso di essere un sindaco serio, competente, razionale, così come lo è stato Mario Di Pietro, che io ringrazio anche per il sostegno che mi ha dato e anche perché mi lascia un comune con i conti in ordine rispetto a questa cosa a conto di poter lavorare serenamente. Ma certamente dovremo renderci conto un attimo anche dell'assetto all'interno, all'amministrazione, quindi dalla macchina amministrativa, farla partire, ripartire nel segno della massima efficienza e poi naturalmente da lì lo sguardo all'esterno perché molte sono le cose da fare. Figlia del lavoro secondo me importante che si è fatto nei cinque anni e di una politica di ascolto che non abbiamo mai voluto interrompere, soprattutto a ridosso della presentazione della lista dove abbiamo rifatto il giro di tutto il territorio per capire, restituire i risultati e capire anche se questi risultati erano soddisfacenti e la dimostrazione è gestata e che cosa dovevamo fare in futuro. Se tante piccole cose che possono essere fatte con poco e che comunque possono cambiare il voto di un'amministrazione, affiancate comunque anche da progetti, da progettualità comunitaria e dalla ricerca di fondi europei, regionali e nazionali che possono permettere uno sviluppo del nostro comune. I cittadini prima di tutto, quindi ripartire dalle esigenze di tutti i cittadini del comune di Basciano. E ora ci spostiamo in provincia di Chieti, si è votato tra gli altri comuni a Lanciano ebbene pur non essendoci ancora dei dati definitivi a Lanciano sarà ballottaggio tra il candidato sindaco del centro-sinistra e primo cittadino uscente Mario Pupillo e il candidato del centro-destra Enrico D'Amico. Esce dalla competizione elettorale, Tonia Paolucci, il servizio. E' un testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra, da un lato il sindaco uscente Mario Pupillo che dalla sua parte può contare sul Partito Democratico e quattro liste a sostegno e dall'altro Enrico D'Amico con la sua lista civica nuova Lanciano appoggiato da Forza Italia, noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Unione di Centro e altre tre liste civiche. Un dato che apre già lo scenario del ballottaggio con il capitolo Apparentamenti e infatti Tonia Paolucci con la sua lista civica oltre a Casa Pound e altre due liste a diventare il fondamentale ago della bilancia con il suo 22%. Boccia il centro-sinistra perché non ci dimentichiamo che cinque anni fa l'amministrazione attualmente in carica aveva riportato il 60%, oggi registra poco, intorno al 39% e quindi è chiara la volontà dei lancianesi di cambiare amministrazione. Si parlerà anche con la Paolucci? Sicuramente, ripeto, adesso ragioniamo sui numeri e poi si faranno valutazioni. Intanto io non penso che la Paolucci si possa annoverare nel centro-destra, ha avuto un buonissimo risultato e una lista civica che si pone al di là dei partiti, ha presentato punti programmatici anche importanti, per cui mi auguro che si apra un confronto per vedere un po' come poter, diciamo, catturare questo elettorato che è un elettorato molto sensibile, diciamo, con un senso civico molto alto. Mi fa piacere che ora i due si sono resi conto, diciamo, di questo risultato perché durante la campagna elettorale dicevano ben altro, il contrario. Veramente ci sono delle ruggini con Forza Italia e con il centro-destra, quindi è impossibile pensare a un apparentamento? No, no, qua non parliamo di ruggini. Il problema è praticamente nato che noi abbiamo fatto una scelta ben precisa che viene da lontano, diciamo, da lontano 2012, quando abbiamo iniziato a mettere su questo gruppo civico e noi ci siamo posti come alternativa e come cambiamento. Una menzione poi va fatta sulla lentezza dello scrutinio che ha attirato l'attenzione di tutti, montando anche diverse polemiche. L'introduzione della doppia preferenza di genere ha causato non pochi problemi per gli elettori che hanno spesso espresso un voto nullo e dall'altra gli scrutinatori che hanno, in alcuni casi, dovuto ricontare le schede per errata interpretazione. Alle 8 della mattina solo 11 seggi su 44 erano stati scrutinati ufficialmente. Le difficoltà sono state appunto questo voto di genere, ci sono state tantissime schede nulle, comunque i presidenti si trovano in difficoltà nello scrutinare e speriamo che riusciamo, siamo ad 11 soltanto e sono le 7 di mattina, siamo qui da ieri. Abbiamo mandato anche i nostri colleghi qui del comune a poter supportare i presidenti, gli scrutatori, qualcuno si è sentito male. E ci sarà ballottaggio anche a Vasto, a sostenerlo tra due settimane nel secondo turno, l'ex assessore regionale Massimo Desiati, candidato del centro-destra. Qui vediamo i dati, Desiati chiude in leggero vantaggio di circa un punto percentuale su Francesco Menna, Desiati espressione del centro-destra, Francesco Menna espressione del centro-sinistra, circa 250 voti di differenza. Al terzo posto c'è Ludovica Cieri del Movimento 5 Stelle, poi molto più staccati ci sono Laudazzi con il 9,5% e Montemurro con il 2,7%. Lo scrutinio a Vasto si è chiuso pochi minuti fa e sempre pochi minuti fa hanno parlato proprio i due competitors al prossimo ballottaggio, ovvero Menna e Desiati. È stato un risultato che mi soddisfa tanto e soddisfa la coalizione di centro-sinistra e mi sento quindi in dovere fin da subito di ringraziare il lavoro, l'impegno di tutti i candidati, del popolo vastese che ci ha promosso e di tutte le persone che si sono strette intorno a questa squadra e a questa competizione elettorale. Faccio il benvenuto a Ludovica Cieri in Consiglio Comunale e gli auguro sicuramente buon lavoro e se le cose dovessero andare bene vi chiedo di aiutarci a costruire quella famosa Smart City che abbiamo condiviso durante i confronti, oltre agli altri punti programmatici che ci vedono in comune e ci vedono in adesione. Cesco Menna è rappresentante di un'amministrazione uscente, vale a dire un'amministrazione che è entrata con una percentuale ben più alta del 32,91%, quindi la nostra cittadinanza e l'elettorato vastese ha sonoramente punito l'amministrazione uscente. Ora si tratta però di costruire, si tratta di costruire un'alternativa seria, concreta, solida affinché la nostra città finalmente possa riprendere un determinato percorso. Dovremmo ancora vedere la composizione del Consiglio Comunale, le strategie da adottare, resta il fatto però che il dato elettorale ha premiato tutti quanti coloro che elettori o candidati non si sono riconosciuti nell'amministrazione uscente. E' stato invece eletto il sindaco a San Giovanni Teatino dove si votava con turno unico e c'è la conferma di Luciano Marinucci di Progetto Comune, per lui 4171 preferenze pari al 52,8%, lo sconfitto è un ex sindaco come Verino Caldarelli del PD, 33,2% per Caldarelli, ha chiuso al terzo posto Mario Cutrupi del Movimento 5 Stelle con il 14% delle preferenze, il servizio su San Giovanni Teatino. San Giovanni Teatino conferma la sua fiducia a Luciano Marinucci, sindaco uscente che a queste elezioni si è trovato a sfidare due avversari, da un lato Verino Caldarelli con Insieme PD e dall'altro Mario Cutrupi del Movimento 5 Stelle, vince con il 52,82%, una vittoria che si palesa quasi subito, dopo le prime 2000 schede oltre 1000 vedevano il nome di Marinucci, 650 quelle di Caldarelli e poco più di 300 per Cutrupi. Cinque anni di lavoro comunque hanno prodotto per noi un ottimo risultato in termini di sostenibilità, gli elettori lo hanno compreso e questo mi fa molto piacere perché noi in questi ultimi anni abbiamo cominciato a lavorare anche sulla mentalità del paese, rendere più consapevoli e responsabili di quello che è un'attività amministrativa, di chi li rappresenta ma anche delle risorse che noi amministriamo. Un mandato portato a termine ed ora il pensiero va già ai nuovi obiettivi per la città, al primo posto, dice il sindaco, la vivibilità. Stiamo lavorando nella direzione di dare un po' più di tranquillità alle famiglie, ai servizi, dobbiamo spendere 11 milioni di euro che abbiamo in banca e stiamo lavorando per dare un'opportunità di lavoro attraverso il rilancio dell'edilizia in primis ma anche dell'attività commerciale perché con un nuovo piano di riassetto commerciale adesso avremo la possibilità di far nascere altri 4 insediamenti anziché 8, quindi diciamo che abbiamo lavorato su questa linea. E per chiudere circa il territorio teatino, Fraine e Tufillo, piccoli comuni del Vastese dove si è votato per il rinnovo del Consiglio Comunale con un solo candidato sindaco, hanno avuto sorti diverse. In entrambi i comuni con una sola candidatura era necessario che si recasse i seggi la metà più uno degli aventi diritto. A Fraine arriverà il commissario prefettizio, non ce l'ha fatta il candidato Filippo Stampone, infatti non è stato raggiunto il quorum degli elettori perché la percentuale di chi si è votato al seggio è stata del 25,07%. A Tufillo invece è stato eletto Ernano Marcovecchio perché a votare è stato il 53,97% degli elettori. Ora passiamo alla provincia dell'Aquila e partiamo dal comune di riferimento, dal comune più popoloso dove si è votato, il comune di Sulmona, anche in questo caso possiamo vedere le schermate, anche in questo caso possiamo parlare di ballottaggio. Tra Anna Maria Casini 45,1% 6.319 preferenze che sfiderà al secondo turno Bruno Dimasci 3.697 preferenze pari al 26,4%. È evidente che in questo caso al ballottaggio si andrà con un divario davvero evidente di circa 19 punti percentuali. Poi Lucci con l'11,9%, 1.162 preferenze per Alessandro Lucci. Possiamo vedere anche l'altra parte della schermata con Elisabetta Bianchi, 1.030 preferenze. Alberto Di Giandomenico con 848 preferenze. chiude Domenico Capaldo con 450 preferenze. Andiamo a Sulmona ad ascoltare i due candidati che andranno al ballottaggio. E dunque ballottaggio a Sulmona tra Anna Maria Casini, candidato sindaco della coalizione Noi per Sulmona e Bruno Dimasci, candidato sindaco invece del raggruppamento La Città che vogliamo. Sì, abbiamo ottenuto un risultato strepitoso. Io ringrazio la città di Sulmona che mi ha voluto tributare questo grande onore e far raggiungere questo risultato. Ho un gruppo fortissimo, una coalizione fantastica. Insieme siamo andati ben oltre le nostre aspettative perché comunque avevamo già chiaro che saremmo stati quelli in vantaggio. Ripartiamo oggi con una campagna elettorale ancora una volta tra la gente e per la gente. Io sono donna di squadra, porteremo il nostro gruppo il 19 a vincere queste elezioni e quindi io con loro, con la mia squadra e con Sulmona riporteremo questa città al massimo dello splendore possibile così come merita. La partita è assolutamente aperta, apertissima e credo che possiamo farcela. Quali sono gli obiettivi da tenere sicuramente ancora in considerazione, da proporre agli elettori in questi 15 giorni che precedono il ballottaggio? Innanzitutto far uscire Sulmona dall'isolamento e nello stesso tempo cercare di tutelare i servizi e quindi l'ospedale, il tribunale ma soprattutto fare una roadmap sotto l'aspetto economico perché Sulmona deve uscire assolutamente dalla crisi economica in cui si trova. Facciamo ora un riepilogo con il prossimo servizio per gli altri comuni dell'Aquilano. 29 nuovi sindaci eletti nella provincia dell'Aquila. A Dalfedena il sindaco eletto è Massimo Scuro, a Bisegna Antonio Mercuri, a Calascio Ludovico Marinacci è il nuovo primo cittadino, a Campotosto invece Luigi Cannavici, a Canistro Angelo Di Paolo, a Capitignano è stato confermato l'uscente Maurizio Pelosi, a Carapelle Calvisio resta in poltrona Domenico di Cesare, a Castelvecchio Calviso invece, comune che era eletto da un commissario Rinaldo Pezzoli, l'eletto è Luigi Nantonacci, anima di molte associazioni culturali del territorio. A Cerchio è stato confermato Gianfranco Tedeschi, mentre a Civita Dantino sarà ballottaggio tra Sara Cecchinelli e Antonio Di Francesco. A Civitella Roveto eletto Sandro De Filippis, a Cocullo Sandro Chiocchio, a Fossa il nuovo sindaco è Fabrizio Boccabella, a Ofena retta da un commissario il nuovo sindaco Antonio Silberi, a Ortuna De Marzi confermato Manfredo Eramo, a Ortucchio sarà ballottaggio tra favoriti e l'uscente Daulerio, a Ovindoli Angelo Sante è il nuovo primo cittadino, a Pereto sarà sindaco Giacinto Sciò, a Prezza Marianna Scoccia, ex assessore provinciale, è il nuovo primo cittadino, a Rivisondoli l'uscente Ciampaglia è riconfermato, a Roccaraso è riconfermato di Donato, a San Vincenzo Valle Roveto resta sindaco Giulio Lancia e anche a Scontrone conferma per il Leana Schipani. A Scurcola eletta Mario Olimpia Morgante, a Secinaro eletto Bernabei, a Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa cede lo scranno più alto a Vincenzo Giovagnorio, a Torni in parte eletto Giacomo Carnicelli e a Villalago confermato Fernando Gatta. E ora nel Pescarese per una manciata di voti Mario Semproni è il nuovo sindaco di Penne, la sua lista Penneviva vicino al centro-destra ha ottenuto 2746 preferenze, solo 70 in più del Movimento 5 Stelle. Fino all'ultimo infatti è stato testa a testa con il candidato grillino Luca Falconetti che si è fermato a quota 2676. De Bacl per il candidato della lista Pennevale Egno Napoletano, vice sindaco uscente del centro-sinistra che si è fermato a 1933 preferenze. con il capoluogo Vestino che passa al centro-destra, il centro-sinistra ed il Partito Democratico perdono un importante punto di riferimento nel Pescarese dopo 15 anni. Invece si afferma una lista civica sostenuta tra l'altro dal centro-destra anche a Manopello con la vittoria di Giorgio De Luca di Uniti per Manopello che ha ottenuto 1807 preferenze pari al 41,86%. A Popoli è stato confermato sindaco Concezio Galli che era il primo cittadino uscente. Galli di area PD che ha ottenuto 1771 voti pari al 56,9%. A Colle Corvino è stato confermato sindaco Antonio Zaffiri con 2364 preferenze pari al 65,5%. Ed ora ascoltiamo anche il commento del governatore Luciano D'Alfonso a poche ore dalla chiusura di questo primo turno in alcuni casi di elezioni amministrative e in molti casi invece elezioni amministrative definitive. Sono dispiaciuto di non essermi candidato sindaco in qualche città perché quando ci sono le candidature mi emoziono molto e credo di dare luogo anche ad una bella espressione di forza. Ci sono dei dati che sono interessanti, incoraggianti e dei dati che sono problematici. I dati incoraggianti fanno riferimento all'espressione di voto su Lanciano a favore di Pupillo. C'è un risultato di eccellenza nazionale, sembra quasi un risultato kennediano a Francavilla con Antonio Luciani che non è che viene rieletto, viene messo lì come un imperatore, viene riconfermato come un imperatore. C'è un risultato significativo, interessante a Roseto dove un giovane avvocato ha saputo ridare la forma della scarpa, la sorte del Partito Democratico a Roseto e io naturalmente gli faccio pieno riconoscimento e c'è anche un'affermazione carica di aspettative, di speranza avvasto con il giovane Francesco Menna. Poi c'è una specie di armageddon a Sulmona dove scompaiono centrodestra e 5 Stelle, si riducono a un quarto di un diritto di tribuna, cioè entrambi non mettono insieme un posto al diritto di tribuna. Tutta la rappresentanza politica viene presa dalla giovane e mi pare vincente Casini e dal saggio, esperto, consolidato Bruno Di Masci, insieme credo che abbiano l'80% dei voti. Dopodiché ci sono delle realtà minori che per quanto mi riguarda suonano come una specie di lezione educativa, c'è il caso di Penne dove 20 anni di governo hanno prodotto forze e stanchezza e lì c'è bisogno di riseminare e di ricominciare. C'è un voto di conferma a San Giovanni Tiatino del quale noi dobbiamo assolutamente prendere atto, la riconferma Popoli era scontata. Qual è il voto di tendenza che viene in Abruzzo? Sostanzialmente nei grandi centri c'è l'affermazione del centro-sinistra, nelle piccole realtà c'è stata voglia di rinnovamento. Per quanto mi riguarda dobbiamo continuare a lavorare, a seminare e soprattutto a fare quello che Primo Mazzolari ci diceva, dobbiamo imparare a fare opposizione a noi stessi. Il risultato è secondo lei un segnale indicativo che si può riflettere sul suo governo regionale? Assolutamente no, io non vedrò di candidarmi. Avevo chiesto di essere candidato in qualche comune, non mi hanno gradito, mi volevo candidare a Francavilla come consigliere comunale. Mi candiderò alle prossime elezioni con la Pescara come consigliere comunale, se mi vorranno. E ora lasciamo l'ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative, parliamo di sport, parliamo della finale d'andata dei pre-off di Serie B che il Pescara ha fatto sua per 2-0 con il Trapani, grande pubblico ieri, un pubblico da tutto esaurito allo stadio Adriatico-Cornacchia e le reti di Benalì e la Padula ipotecano la promozione in Serie A, anche se ci sono ancora 90 minuti da battaglia. Giovedì al provinciale di Trapani, servizio. Con una prestazione entusiasmante il Pescara batte all'Adriatico per 2-0 il Trapani al termine di 90 minuti dominati lungo e largo che avrebbero potuto regalare anche un punteggio ancora più rotondo, tanto netta è stata la differenza di valore in campo fra le due squadre nella gara di andata della finalissima play-off. Grande l'entusiasmo del popolo biancazzurro al novantunesimo con Massimo Oddo e il presidente Sebastiani che fanno però bene ad invitare tutti alla prudenza in vista della gara di ritorno. Ci sarà ancora da soffrire e lottare ma il Pescara, visto non solo questa sera ma in tutta la stagione, ha dimostrato ampiamente di meritare la conquista di un traguardo che oggi è un po' più vicino. In campo vanno le formazioni annunciate alla vigilia. Nel Pescara gioca l'undici titolare con Levian Memoucha in campo per l'ultima volta in stagione. Nel Trapani Pektovic in dubbio alla vigilia e regolarmente in campo affiancato da Coronado. Dirige il figlio d'arte Pairetto davanti ad un Adriatico stracolmo, avvio prudente delle due squadre. Prima emozione al settimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un rimpallo che favorisce per un attimo la padula e con la palla che però poi termina fuori. All'undicesimo Perticone butta a terra Caprari lanciato a rete con Pairetto che non giudica il fallo del difensore siciliano da ultimo uomo, estraendo solo il cartellino giallo fra le proteste bianca azzurre. Sulla palla va poi Caprari che mette la sfera di poco a lato dai 20 metri. Il Pescara prende decisamente in mano le redini del gioco e al quindicesimo è ancora l'ex romanista prima del limite a concludere al volo senza impegnare severamente Nicolas che poi al diciannovesimo su conclusione ravvicinata di Gianluca la padula dimostra una grande prontezza respingendo il pallone. La squadra di Cersei Cosmi vada soprattutto a contenere con Scozzarella che poi va al ventisettesimo a commettere fallo su un avversario prendendo un primo giallo e poi il secondo per proteste. Per l'ex giocatore del Portogruaro si schiudono così le porte degli spogliatoi con il trapani costretto a giocare in dieci per oltre un'ora. Al trentacinquesimo c'è un tiro di la padula dall'interno dell'area di rigore con Nicolas che para anche perché la conclusione del Bomber non è irresistibile. Il Pescara ci crede ed il finale di tempo vede ancora il pressing della formazione bianca-azzurra con un tiro centrale di Memushai al 44esimo prima del doppio fischio di Pairetto di Nichelino che comanda l'intervallo. La ripresa si apre al secondo con il meritatissimo vantaggio dei padroni di casa con un'azione tambureggiante che vede prima la parata di Nicolas su un missile di Verre e poi dopo la respinta del portiere della difesa trapanese la rete di Benalì che sotto misura mette il pallone alle spalle del portiere siciliano facendo esplodere l'Adriatico ed andando ad esultare sotto la Nord. La squadra di Massimo Oddo ci crede e al sesto Gianluca la padula non riuscire a controllare il pallone in area siciliana con l'ex Terramano che poi ci riprova anche al decimo con una sassata che termina di poco fuori. Poco dopo la padula tocca invece il pallone con la mano e viene ammonito così come Memushai che al diciannovesimo lascia il campo sostituito da Verde e chiudendo così la sua stagione con la maglia adriatica. E proprio il neo entrato al ventitresimo prova un pallonetto dai venticinque metri mettendo la sfera sopra la traversa della porta difesa da Nicolas che poi non può nulla al ventisiesimo quando Gianluca la padula fa 30 segnando il gol del raddoppio con un tiro che non lascia scampo al portiere siciliano. Il Pescara non è pago anche perché gli ospiti sempre in dieci soffrono. Il terzo gol però non arriva nonostante continui attacchi con l'ultima emozione targata Torreira e con un tiro del giocatore Uruguaggio al quarantaseiesimo. Finisce dopo quattro minuti di recupero una gara vincente che ha visto il Pescara portare a casa meritatamente. La vittoria fra quattro giorni al provinciale farà molto caldo ma la squadra di Massimo Oddo è pronta alla battaglia. Ci chiude qui la prima edizione del TG6 le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!